Medardo Rosso. Medardo Rosso nacque a Torino nel 1858. Suo padre faceva l'impiegato, quindi faceva parte della classe della borghesia, media-medio-bassa. Medardo si trasferì poi però con la famiglia a Milano, frequentò l'Accademia di Brera dal 1882 al 1883, però si dimostrò insofferente all'insegnamento accademico. Infatti a lui non piacevano assolutamente i professori che c'erano all'epoca nell'Accademia di Brera, per esempio uno scultore di cui parleremo dopo, perché erano veramente troppo legati alla tradizione. Lui voleva cercare un modo diverso di esprimersi e quindi di fatto fu un fallimento questa sua iscrizione all'Accademia. Iniziò la sua carriera artistica nell'ambito della scapigliatura milanese, che accentuò il suo carattere anticonformista, e colverismo che ne accentuò il carattere socialista e bozzettista, per approdare ad un'arte che, semplificando, si può definire scultura impressionista, perché quello che conta maggiormente nelle sculture di Medardo Rosso è proprio la luce. Poi nel 1885 sposò Giuditta Pozzi e nello stesso anno ebbero il loro unico figlio Francesco, Francesco Angelo Ribelle. Il matrimonio naufragò nel 1889, ma adesso vorrei soffermarmi su una fase della formazione di Medardo Rosso. Quando lui fu anche arruolato, trascorse l'anno del servizio militare a Pavia. Ecco, lì a Pavia ebbe una sorta di folgorazione. Quando vede queste sculture, che potete vedere qui adesso sulla slide, che sono sculture che adornano la facciata della Basilica di San Michele Maggiore, appunto, a Pavia. Probabilmente fu molto colpito dall'indeterminatezza di queste sculture. Diciamo dal fatto che le forme fossero appena bozzate, non così dettagliate, secondo quelli che sono i dettami della scultura classica, e quindi la perfezione formale delle linee, dei dettagli. È una scultura che invece si basa molto su effetti di intensità, effetti drammatici. La scultura romanica, in buona sostanza. Questo colpì molto Medardo Rosso, ma poi sicuramente anche altre esperienze, anche visioni di altre opere d'arte, anche pittoriche. Lo colpirono e lo indussero, accanto a quell'esperienza di cui abbiamo parlato prima, però. Vi ricordate? Quella della scapigliatura, che voleva dire in buona sostanza un'esperienza che lo induceva, dicevamo, ad un anticonformismo. La scapigliatura milanese era l'equivalente, un po' in piccolo, di quello che era rappresentato in Francia dagli artisti bohemienne, cioè gli artisti di strada, gli artisti controcorrente. E lo stesso riguarda anche il realismo, il verismo dell'epoca. Nel senso che sicuramente il verismo aveva posto l'accento, anzitutto su determinate classi sociali. Ecco, non è la scultura dei grandi nobili, per esempio, ma è la scultura della gente e del popolo. E questa è una cosa che lui continuerà a fare, cioè continuerà a scolpire persone, generalmente persone comuni. E poi l'aveva indotto ad un'attenzione, diciamo, alla realtà, che però poi viene trasfigurata nella sua scultura. E questo lo vedremo parlando della poetica di Medardo Rosso. Ecco, lui comunque era un tipo un po' eccentrico. Abbiamo già spiegato, per esempio, che aveva lasciato la moglie. e se n'era andato a Parigi, affascinato da un paese che lui vedeva come un fulcro culturale dell'Europa dell'epoca e dove poteva, lui almeno sperava, di trovare la possibilità di esprimersi, di esprimere questa novità che aveva dentro di sé. Era attratto proprio, per esempio, dalla pittura degli impressionisti. È come se lui avesse quest'altra folgorazione, no? Cioè di poter, diciamo, applicare l'impressionismo alla scultura. Ecco, qui vedete una delle sue rare fotografie, insomma, uno dei suoi rari ritratti. In genere, quando faceva fotografie, lui fotografava le sue opere. Comunque, generalmente, non fotografava se stesso. Quindi abbiamo veramente pochissime sue fotografie che lo ritraggano. Una è questa, che probabilmente riguarda quella che è la residenza d'estate, di vacanza, ecco, di questa famiglia, di Medardo, in modo particolare, che è a Barzio. Come vedete, si presenta a noi con un modo di vestire sicuramente poco curato, negligente, e intravediamo dietro pezzi di legna e una casa probabilmente rustica di montagna. Ecco, lui era un tipo così. Era un tipo piuttosto burbero, era un po' un caratteraccio, irsuto, un po' ostile a tutti. Arriva a Parigi con tante speranze, ma gli capita subito di ammalarsi. Alcuni dicono che si sia ammalato di sifilide, altri dicono che, semplicemente, non avendo niente da mangiare, era talmente deperito che fu trasportato all'ospedale d'urgenza perché rischiava di morire di fame, letteralmente. Questa esperienza, come vedremo comunque, appunto questa del 1889, quando lui arrivò a Parigi, fu feconda, anche dal punto di vista artistico, perché lo ispirò per alcune delle sue sculture più importanti. E incomincia così una stagione, una stagione che, qui possiamo vedere un'altra fotografia, del nostro Medardo Rosso che si presenta a noi un pochettino più vestito in modo più riguardato. Ecco, nell'atelier de Batignolle, quindi nell'atelier che si trovava proprio lì a Montmartre. Sapete che Montmartre era un po' il quartiere degli artisti? Ecco, inizia a frequentare questo quartiere e inizia ad allacciare dei rapporti, dei legami con molti artisti importanti lì a Parigi. In particolar modo fu stimato da Edgar Degas. E quindi ci sono dei paralleli tra quella che è l'opera di scultura, insomma, di Medardo Rosso e quella della pittura di Degas che certe volte anche lui tratteggia, rappresenta angoli oscuri, bui della città, appunto, di Parigi e anche persone molto, molto, come dire, emarginate dalla società. Divenne amico anche di Auguste Rodin, ecco, appunto, di quello scultore cui abbiamo dedicato la diretta la volta scorsa. tuttavia il rapporto fra i due fu piuttosto altalenante dal momento che ci furono delle accuse reciproche nel senso che uno accusava l'altro di plagio e quindi dicevo appunto che era un po' ostile a tutti faceva fatica a inserirsi nei rapporti interpersonali perché appunto spesso riteneva gli altri artisti i suoi plagiatori e quindi era risentito con loro e quindi i rapporti spesso si andavano deteriorando con artisti come Auguste Rodin. Invece, in seguito, ebbe una sorta di investitura da parte di alcuni giovani del movimento dell'avanguardia dei futuristi come Boccioni, Carrà e poi anche dal giovane Manzù. Ecco, nel 1914 tornò a Milano ma continuò poi anche ad essere a Parigi per alcuni periodi e sta di fatto comunque che negli ultimi anni della sua vita a partire dicevamo appunto dal 14 in poi diciamo che la critica incominciò a considerarlo come uno scultore di un certo rilievo e di un certo interesse. Lui era sempre agiva però sempre un po' a suo modo come quando nel 1990 espose alcune delle sue sculture e sono quelle che adesso vedremo tra poco il bambino malato il bambino ebreo la portinaia e l'ecce puer ad una mostra d'arte sacra a Venezia e lì in modo un po' irriverente che cosa fece? Modificò il nome di queste sculture e fece diventare il bambino malato un San Giovannino il bambino ebreo un San Luigi la portinaia una Sant'Orsola e l'ecce puer l'enfant de Nazareth il bimbo di Nazareth anche se in quest'ultimo caso una certa analogia già originaria c'è perché appunto ecce puer come vedremo riecheggia un po' l'ecce homo evangelico Medardo Rosso affermò se chimpò po' e n'arte se de faire oublier la matière cioè a me nell'arte interessa soprattutto far dimenticare la materia ecco il motivo per cui per esempio adorava una materia che non che non fosse così eterna che non rimaresse per sempre ma che si consumasse una materia di per sé più deperibile come la cera preferiva la cera al marmo anche perché il marmo è molto freddo è un minerale infatti mentre la cera è di origine animale e arriviamo un po' adesso a parlare della sua poetica dicevamo cioè del suo modo di concepire l'arte le sue sculture sono costituite da forme non finite adesso lo vedremo prima di dire questo però riflettiamo un attimo sulla sua morte ma niente nella sera del 31 marzo del 1928 in seguito a un'infezione dovuta a un problema di sangue assistito dal suo figlio unico Francesco Angelo Ribelle morì appunto a Milano il figlio Francesco Angelo Ribelle raccolse le opere che si trovavano nella dimora di via Solferino a Milano e tutti i documenti in suo possesso e li mise li riunì li espose se vogliamo in un palazzo di Barzio in Valsassina dove come vi ho spiegato prima erano soliti passare la villeggiatura padre e figlio e quindi questo palazzo è diventato un museo il museo rosso il museo privato Medardo Rosso cui è possibile accedere chiedendo appunto ai proprietari Medardo Rosso è sepolto al cimitero monumentale di Milano ecco dicevamo che nelle sculture di Medardo Rosso la materia all'inizio c'è ma poi mano a mano viene meno e rimane lo spirito Medardo Rosso fa emergere lo spirito sottraendo la materia per questo motivo Medardo Rosso è stato definito uno scultore animista oppure addirittura medianico cioè in grado di far resuscitare o comunque di rappresentare meglio qualcosa di morto insomma insomma lui ha come punto di partenza la materia ma poi toglie alla materia per raggiungere l'anima così come pensavano gli antichi quando pensate a Platone per esempio quando dicevano che lo scopo dell'anima era quello di liberarsi del corpo per esempio durante un'intervista del 1917 a Parigi Medardo Rosso ha dichiarato ciò che importa per me nell'arte è di far dimenticare la materia Medardo vuole arrivare ad abolire a consumare quasi a bruciare la materia ecco questo però è un percorso che inizia con queste sculture un po' bozzettiste dicevamo a metà fra la scapigliatura tra le influenze della scapigliatura e del verismo nella fase iniziale quindi nella fase milanese questo per esempio è una delle sue prime sculture che si intitola El Leuch El Leuch dovrebbe essere una voce dialettale milanese ambrosiana del tempo che più o meno equivale al delinquente del quartiere forse era stato un suo amico scultore anche lui a posare per questa scultura l'intento comunque dell'artista giovane nel ritrarre questo delinquentello di quartiere era quello di far emergere le problematiche sociali dell'ambiente milanese ecco uno scagnozzo possiamo iniziare a intravedere quel percorso di scarnificazione della materia che poi lo porterà sicuramente nella fase della maturità ai suoi capolavori qui vedete per esempio che il volto invece qua è piuttosto ben delineato il volto di questo delinquente di questo giovane sfrontato sfacciato di quartiere è ben delineato però già in altri dettagli possiamo vedere questa indeterminatezza che caratterizzerà l'arte di Medardo Rosso vediamo sempre del periodo milanese altre due importanti sculture la prima a sinistra è il cantante a spasso e la seconda è il bacio sotto il lampione denominata anche gli innamorati tra l'altro ci sono diverse versioni di queste sculture io ne ho viste alcune per esempio con il lampione decisamente più alto ecco qua vedete che comincia e voglio dire prosegue questo processo di indeterminatezza lo vedo soprattutto nella scultura del bacio degli innamorati sotto il lampione questo processo di indeterminatezza dei contorni della materia la fusione dell'un dell'un giovane con l'altra giovane e poi invece c'è questo cantante a spasso è chiaro comunque che sono delle importanti sperimentazioni da cui si capisce che l'autore è capace di piegare la materia fino ad ottenere effetti plastici poi continuando arriviamo a queste due sculture una è quella che ho utilizzato come per la nostra copertina quindi la ritengo già questa molto molto espressiva molto intensa l'ho già spiegato è la ruffiana così viene chiamata denominata anche se ha altri titoli questa questa scultura ed è una donna segnata dal tempo dalle rughe in una delle varie versioni di questa scultura lui ha scritto Margherita e Margherita è protagonista insieme a Faust della famosa tragedia e quindi sicuramente potrebbe avere un senso anche questo per interpretare meglio questa dissoluzione di questa donna rappresentata in questo modo così intenso e drammatico mentre dall'altra parte abbiamo il sagrestano il sagrestano probabilmente anche qua voce dialettale veniva definito lo scaccin ecco il sagrestano ecco anche anche in questa scultura possiamo iniziare a intravedere siamo solo un anno dopo ecco il però possiamo già decisamente intravedere questo importante processo di indeterminatezza insomma dell'opera d'arte che non è più così ben delineata così naturalistica ecco così imitazione della realtà lo vediamo anche in questa scultura dello scaccino quindi del sagrestano ecco uno dei suoi capolavori che è la portinaia ecco come vedete nelle slide spesso queste opere si trovano nella galleria d'arte moderna di Milano oppure in questo caso in quella di Capesaro di Venezia oppure nella galleria nazionale di arte moderna di Roma quindi con le sigle GAM o G.N.A.M. nel caso della galleria nazionale d'arte moderna di Roma ecco qui vediamo un altro di questi personaggi che probabilmente affollavano la società diciamo non delle classi più elevate della Milano dell'epoca la portinaia una matura signora con i cappelli raccolti in uno chignon i capelli scusate raccolti in uno chignon il viso chino a toccare quasi il petto perché forse sembra dormire assonnata attenzione però come ben sappiamo le portinaie sembrano essere insonnolite addormentate ma poi sanno tutto di tutti ecco attraverso lo scaccino quindi il sagrestano questa portinaia iniziamo a intravedere uno di quei processi fondamentali della scultura di Medardo Rosso che è quello di concentrare l'attenzione su una uno dei lati della scultura è come se si potesse vedere compiutamente la scultura solo di fronte perché sul retro non si non si osservano insomma dettagli significativi è come se lui volesse dicevamo quasi appiattire la scultura è la tecnica dello schiacciato insomma una tecnica che lui probabilmente ha preso da Donatello Donatello faceva delle sculture che erano anche che avevano un poco rilievo pochi centimetri di rilievo eppure era in grado di rendere la profondità insomma Medardo Rosso ha come modello Donatello mentre Roden abbiamo visto che ha avuto come modello Michelangelo un'altra cosa importantissima è che Medardo Rosso è uno scultore che però sembra quasi arrivare ai confini di quel limite che c'è tra la scultura e la pittura in certe sue opere come questa per esempio della della portinaia ecco a lui interessava non l'analisi dicevamo non il dettaglio ma la sintesi riduceva al minimo i dettagli del personaggio per esempio qui di questa portinaia noi riusciamo a intravedere l'incavo degli occhi il profilo del naso la linea della bocca ma tutto quanto appena abbozzato l'artista vuole fondere la figura con l'ambiente si elimina completamente il contorno e non c'è la struttura volumetrica del corpo il busto appare infatti come una massa indistinta quasi grezza il gesso non è modellato in maniera omogenea ma per tocchi veloci che accentuano l'effetto pittorico della superficie rendendola così più sensibile agli effetti di luce e di atmosfera la traduzione figurativa della donna dice Zangari uno storico dell'arte non è più a tutto tondo ma è costruita e modellata per essere vista da un preciso angolo di osservazione ecco è quello che vi stavo dicendo quando vi ho spiegato che da questo momento in poi lui concepisce la scultura come qualcosa che si può fruire compiutamente solo da una parte di essa parte frontale se vogliamo non dal retro continua però sempre in questi anni diciamo milanesi l'analisi e lo scandaglio della società dell'epoca per esempio in questa scultura che è la rappresentazione di un personaggio dei bassi fondi possiamo dire cioè una prostituta è una prostituta dolente e viene definita così carne altrui con una sorta quasi di non so di di titolazione mutuata dal Federico Cameroni che era uno scrittore dell'epoca che appunto era tutto intriso delle novità delle dei movimenti letteraria dicevamo appunto del verismo soprattutto e anche un pochettino della scapigliatura la prostituta sicuramente non è contenta della sua condizione della sua situazione quel titolo quel nome carne altrui ne sottolinea il fatto che ha perso il possesso di di se stessa e l'artista quindi come abbiamo visto è attratto dai soggetti emarginati della società abbiamo visto la ruffiana il sagrestano la portinaia adesso questa prostituta ecco tra l'altro questa prostituta sembra quasi vergognarsi della sua vita e sembra quasi voler regredire sino al momento iniziale della sua vita al momento del parto se non addirittura allo stato embrionale adesso vediamo una una cosa un po' particolare cioè una fotografia ecco tra l'altro adesso stiamo iniziando ad andare anche nelle opere diciamo francesi parigine francesi di Medardo Rosso e alcune di queste opere si chiamano proprio impressioni una di queste è questa l'impressione d'omnibus e fa venire in mente un po' impressione Soleil Levant il famoso quadro di Monet che ha introdotto un po' la corrente dell'impressionismo in pittura ecco dovete sapere dicevamo che Medardo Rosso si metteva a fotografare le sue opere per fortuna perché quest'opera impressione d'omnibus è persa cioè non ce l'abbiamo più come scultura abbiamo solamente la sua fotografia quindi questa foto che lui aveva fatto di quest'opera che sicuramente anche se ovviamente dobbiamo un po' immaginarcela come dire riusciamo solo a